In un'epoca come la nostra in cui è forte la tentazione di vedere in atto uno scontro tra la civiltà cristiana e quella islamica, e anche di considerare le religioni come fonte di conflitto, abbiamo voluto dare un ulteriore segno, chiaro e deciso, che invece è possibile incontrarsi, è possibile rispettarsi e dialogare, e che pur nella diversità delle culture e delle tradizioni il mondo... Grazie 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 Grazie